Mentre i cittadini di Sciacca stanno ritirando il kit per la differenziata nei due punti di raccolta siamo andati in giro per le attività commerciali di Sciacca a cercare di capire qual è il grado di consapevolezza degli esercenti saccensi riguardo la differenziata e già avanzano le prime perplessità. Alberto Toro, lei è il titolare di uno dei barstolici di Sciacca, a che punto siete con la differenziata? Sapete già che il 9 toglieranno i cassonetti anche per quanto riguarda le attività commerciali a maggior ragione anche voi sarete chiamati a fare la differenziata ma per quanto riguarda le attività commerciali è un po' più problematico. Certo, già siamo stati informati comunque perché ci hanno portato tutti i contenitori sia quelli di umido, quello di secco e quello di differenziata. Anche io ho già iniziato a fare un pochettino di raccolta anche per vedere come va la cosa solamente che l'attività commerciale è diversa da un'abitazione privata perché noi tutti i giorni abbiamo l'umido, noi tutti i giorni abbiamo ora con il caldo che inizia a fare le zanzale qua dentro ci mangeranno sicuramente. Quindi vogliamo magari che questa cosa venga, si dice, spiegata più facilmente a noi. Soprattutto voi avete delle difficoltà per quanto riguarda l'umido, come diceva. Comunque la vostra produzione, essendo un bar, c'è molta gente. La gente giustamente che non è la fara è differenziata, però noi come attività commerciale è molto più avanzata come quantità di prodotto. Ovviamente avete già degli spazi preposti dove poter tenere l'umido e soprattutto vi hanno informato quante volte passeranno a ritirare l'umido ad esempio per un'attività commerciale. Sì, siamo organizzati perché ci hanno dato già sei contenitori, due gialli, due grigi e due marrò. Però sostanzialmente manca lo spazio perché qua dentro non possiamo mettere tutti questi contenitori così enormi. Sicuramente saranno messi fuori e legati con un catenaccio, con una catena, perché la gente pensa che sono tutti del comune e le buttano tutte da dentro. Quindi già come è successo il primo giorno l'abbiamo messo. Anche perché se la gente sbaglia ovviamente sarà lei il titolare della multa. Saranno a me sicuramente perché sono tutti numerati con i contenitori. Sì, già siamo pronti. Noi alla sera quando finiamo dividiamo il vetro con la plastica e l'umido e le metteremo qui fuori. Quindi lei farà una cernita all'interno del suo locale? Certo, sì, sì. Io metterò la carta, le lattine, le birre, il vetro, tutto a parte e l'umido a parte pure. Qualche commerciante dice che i suoi problemi sono legati principalmente allo spazio, dove andare a mettere i contenitori. Lei pensa di avere problemi? No, problemi non ce ne sono perché sono contenitori molto grossi. Perciò anche se l'indomani le usceremo è la stessa cosa, non c'è un problema secondo me. La sua è una delle pizzerie del centro storico di Sciacca. Avete già ricevuto i kit per la differenziata? Noi ancora, tutt'oggi no, sinceramente no. Siete informati sul fatto che comunque entro il 9 toglieranno i cassonetti dal centro storico, non sarà possibile conferire più come prima. Voi la differenziata dovete iniziare comunque a farla? Vi siete organizzati? Nel nostro piccolo sì, anche se non c'è tanta chiarezza. Abbiamo capito come fare, però non avendo il kit, non avendo neanche le giuste spiegazioni, siamo un poco sprovvisti, come io penso tanti, dal privato alle attività. Sarà una bella botta iniziare e più che altro avere le informazioni giuste, cosa e come fare. Sì, ci hanno dato già i kit con i vari cassonetti, ancora però ci devono fare la programmazione per vedere quando sono i giorni assegnati per le varie ritiro del rifiuto. Lei ha qualche prepressità? Perché comunque è un'attività commerciale, molta gente che viene, lei per primo dovrà rispondere anche di quello che faranno i suoi clienti all'interno del suo locale, nel senso che comunque è chiamato a fare la differenziata in maniera corretta? Dobbiamo organizzarci, perché anche noi non siamo preparati per separare il tutto, qualcosa facciamo già in automatico, tipo i cartonaggi, la plastica, la mettiamo a parte, il vegio, ma per tutto l'umido e l'indifferenziata dobbiamo ancora organizzarci. Alcuni suoi colleghi ci dicevano che avevano dei dubbi per quanto riguarda i posti dove puoi andare a mettere il mastello della differenziata, lei ha già individuato il posto del suo locale dove magari potrà collocarlo? Dentro non ci vanno perché sono grandi, quindi dobbiamo organizzarci fuori dal locale sperando che qualcuno non vada a buttare la spazzatura di casa nei nostri cassonetti che poi noi dovremo rispondere. Il nome scatta la raccolta differenziata, avete già ricevuto i kit? Sì, i kit li abbiamo già ricevuti, però ancora giustamente non sappiamo come naturalmente differenziare la spazzatura. E' un po' preoccupato dal fatto che comunque essendo un'attività commerciale la mole di umido e di quant'altro sarà elevata per un'attività commerciale, sapete ad esempio dove metterete questi mastelli, dove li esporrete? Onestamente è un po' complicata la situazione, anche perché noi il locale abbiamo un po' piccolo e verrebbe complicato, però è questione all'inizio magari la situazione è un po' però mano a mano poi magari ci adatteremo. Ad esempio, Sciacca, spesso vediamo che quando si va in pizzeria i camerieri sparecchiano il tavolo velocemente e magari prendono la tovaglia di carta e mettono tutto insieme. Questa è un'abitudine ovviamente sbagliata e che quindi va corretta. In questo senso ha dato delle indicazioni al suo personale? Ma ancora no, onestamente, però dobbiamo, perché è una cosa che dobbiamo fare. Però è chiaro che dobbiamo accettarci e dobbiamo documentarci come farla. dobbiamo ancora, onestamente, capire il meccanismo, come funziona.